L'allerta lanciato proprio da qui, dalla sala operativa dell'ANAS, è stato proprio questa mattina, nelle prime ore, questo fenomeno che si chiama ice storming, che è proprio l'arrivo della pioggia sul terreno che si trasforma immediatamente in ghiaccio. Un fenomeno che peraltro sta lentamente migliorando su tutto il centro nord, nei 25.000 km della rete stradale dell'ANAS. La situazione, insomma, è in via di miglioramento. Quello che vorremmo fare a questo punto è scendere un po' più a sud e dare la situazione che invece riscontriamo sulle strade del centro sud, appunto nelle Marche, sulla 76 e 73 bis, dei forti venti danno un'allerta ai furgonati, ai telonati e ai caravan nei loro viaggi appunto sulle strade. Segnaliamo anche sulla 3 a Calabria, a Villa San Giovanni, che è un'ora di attesa, un'ora di coda per le consuete partenze per la Sicilia. Infine in Puglia un incidente senza danni a persone però provoca una coda di circa un'ora sulla 106 al km 468-469.